e basta, come è andato il corso? io glielo ho detto, mi sono trovato molto molto bene con Vito infatti penso non sia il primo corso che faccio, nel senso ne farò altri probabilmente perché mi sono trovato proprio bene poi Vito è una persona fantastica, sempre disponibile ma tu lo fai per una questione lavorativa? sì perché io ho fatto quattro anni di liceo però non mi sono mai trovato bene ho avuto molti problemi con i docenti, con il preside quindi approfittando fra virgolette di questo periodo negativo per la pandemia ho detto, guarda io cerco mi ingegno un po', cerco qualche corso perché io sono bravo, abbastanza bravo con i computer e con i telefoni e ho detto, se trovo il corso che fa per me, mi scrivo voi siete stati i primi a rispondermi, proprio nel giro di qualche ora, mi ha scritto Alessandra e quindi ho detto, guarda, va benissimo poi abbiamo parlato e mi sono iscritto certo, bene quindi diciamo ha rispecchiato comunque le tue aspettative sì, sì bene, dai, no, vediamo che comunque gli studenti sono sono felici dei corsi anche in questa modalità cioè tu l'hai fatto in Lombardia mi sembra a Bologna però si riescono a fare a Bologna grazie a tutti grazie a tutti Grazie.